Panico in un appartamento a Palermo al secondo piano di uno stabile di Piazza Vanni nella zona dell'ospedale di Cristina, più noto come ospedale dei bambini, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno dell'immobile. Le fiamme si sono manifestate all'improvviso per cause ancora da accertare. A loro arrivo sul posto vigili del fuoco e polizia facevano subito sgombrare lo stabile per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza ma in tre rimanevano bloccati all'interno dell'immobile. L'intervento di pompieri e polizia dunque si concentrava principalmente sul salvataggio dei condomini bloccati, operazioni durante le quali restava leggermente ferito anche un poliziotto medicato e dimesso dal vicino ospedale civico. Particolarmente complesso è il salvataggio di un ragazzo di 17 anni che dormiva e non si era accorto di nulla. Gli agenti, essendo stati informati che si trovava all'interno, hanno dovuto sfondare la porta per trarlo in salvo. Un'operazione resa complessa dalla forza delle fiamme e dal panico diffusosi fra i residenti, per fortuna non molti, presenti nella palazzina al momento del rogo. Durante le operazioni di salvataggio parte del tetto è crollato e proprio per questo il poliziotto è rimasto lievemente ferito dai calcinacci e è stato trasportato all'ospedale per essere medicato. Una decina i condomini che sono stati soccorsi dal 118 hanno dovuto far ricorso alle cure mediche per intossicazioni da fumo. Abbiamo evacuato due persone, una signora al terzo piano e un ragazzo in un appartamento accanto all'appartamento incendiato. La signora del terzo piano l'abbiamo fatta evacuare dalla finestra perché dall'interno non riuscivamo a raggiungere a causa del fumo. Abbiamo fatto rientrare tutte le persone tranne quelle della scala C, che sarebbe la scala dove c'è stato l'incendio dell'appartamento, perché siamo in attesa di completare le operazioni di messa in sicurezza dell'appartamento.